... Chi è prezioso come un figlio? Nessuno. Nessuno più prezioso di un figlio, più caro di un figlio. Nessuno più amato di un figlio. E nessuno più ricercato di un figlio. Il figlio è il bene sommo che il Signore pone accanto a dei bravi genitori cristiani. Ha avuto fiducia in voi e allora adesso aiutatelo a crescere. Come cresceva Gesù. Come cresceva Gesù Rita. Età, sapienza e grazia. Antonio e Anna Lisa. Ecco, vi raccomando siate dei bravi padrini. La loro presenza deve essere una presenza efficace, una presenza bella. Devono aiutare Alessandro a crescere come buon cristiano. Alessandro, io ti battezzo le nome del padre e il figlio. E il Signore, 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 il Signore. Il Signore, 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 il verso il Signore, con Dio nel cuore, con Dio in ansia agli occhi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.